io sono qua c'è un panda, uccidilo se ne sono due, uccidili ma perchè? perchè no? what? l'hai detta eh ma cosa? che evento raga che evento bellissima zioca no vabbè vabbè che cazzo è successo vecchio abbiamo salvato il cavallo scheletrico dobbiamo portarlo a casa subito questo no vabbè zio ci si può cavalcare? si grande vai subito